sentirelo come sa si le perle che è the plug dude dai no davvero no il maiale il maiale credo sento le trappole per forza quale dei dos però o di un finanziere finanziere c'è lui non facciamo niente possono lasciate giuro le scialle le scialle non fu oddio eccola come to go there ah c'è lui qua si ti ho detto spero che te lo faccio ah già l'ho trovato bene come to go there quella che ti pare ok oddio ciò finanziere non è vero ce l'ho con me non è vero ce l'ho con me c'è un po con tutti ma è che non buttare il pallo è che non buttare il pallo luffa luffa vicinissima cazzo l'ordine prima del giorno il fatto che non viene la terra maledetta in effetti sperano un po' più Eccola No, ho visto me! Bestia No Non Tu sei che la tua non ti senti 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 Non c'è la gommee... Oh! Ehm, mi sa che... viene... Ma ha senso vedo l'altra? Non c'è quello l'arma, e c'è di mea Oh! Nooo! Perch' sbaglio mi se De Dardo Doi nooo! Perch' sbaglio mi se De Dardo be sbagli Pazzo! Ma devo prenderlo qua! Ma dove va? Ho incontrato il King! Ssshh! Oddio! Tocco... Cristo Dio! Sì, ma questa c'è una tratta Bene! Ma il killer ce l'ho io vicino? Stai lasciando fra? Sì! Non c'è una cosa che ho fatto io, eh? Eccola! Eh, ce l'ho vicino! Sao che la måste vissere! andiamo! Non c'è l'ho vicino! Non c'è anche l'ho vicino! Ma quindi non c'è l'ho vicino che io voglio si Dio Mai! Non c'è l'ho vicino che io voglio! Sì, ma adesso l'ho vicino! Ho ricordato! Eeeh Fai catturare va Dopo vieni con me Detto la collina? No no Non mi accento Lo so, faccio quasi metà euro Nooo Lo scacciamo Bezzamente dai Eccola Puttana Mariana Va continuato Catturare Pagare 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 Ma ha molato? no vuole me o vuole lei? vuole lei, vuole la mecca eh, è l'ultimo cosa sta facendo? non però è l'ultimo no che tu sei? è dietro indirigibili ok ok c'è anche lei comunque non mi direi più le faccio un altro ok non si incastra sto pozzo di merda di ruai non mi direi non mi direi Esce, esce Porca puttana Apresela prima Eh, che cosa fai che mi metti la trappola, te la fico in culo No, nel basement no però Dove l'ho riuscita? Ok, lo so qua eh Eh, che scampo Dove hanno aperto? Eh, alla mia sinistra in fondo Ah ok, quello li hai fatto E l'altra Meg? Sì, lo so Do solo sicuro che il Meg abbia aperto anche questo al più vicino No, a zero, aspetta, apri un attimo questa Apriam Il Meg si stava abbiate i pollici Eh, c'è Meg che vuole salvare però da sola non parteciapa Grattare i pollici, che cazzo dici? Grattare i pollici, che cazzo dici? Grattare i pollici, che si dice? Grattare i pollici molto buone No Per soddtagli Akrix Sì Un problema Ah... Ha 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 ha, gg ragazzi, gg una squadra come si vive